allora sono qua con la 3d experience e voglio provare a fare una spline per l'ideale era quello di creare di avere del come si dice la curva che segue un'equazione ma da come ho visto io non ce n'è ancora qua switch design dunque perché volevo provare a fare a creare delle volte diventate ed evolvente su su qua con con x design e a questo punto ho guardato le spline dunque andiamo a prendere questo piano qui andiamo a creare lo schizzo perché queste spline qua sono leggermente diverse rispetto a solidox cioè solidox a un tipo spline e una spline di stile che penso segua bezziera adesso io non me ne intendo molto solo che quelle di solidox dopo non erano era molto difficile fissarle invece questa qui sono molto ci sono meno gradi di libertà io sto parlando delle spline con le vecchie né non le spline di stile e dunque andiamo a creare a prendere questo comando full point spline ok dunque clicco qua vado a prendere questo questo ok e magari vado a prendere semplicemente questa ok e faccio esc questo punto andiamo a bloccare la spline ok dunque qui è vincolato qui andiamo a mettere fisso in modo come se avessimo dato l'x l'ipsilon ok e andiamo a mettere anche fisso fisso questo ok dunque qua si vede che è completamente fissa a meno qui non non si può muovere invece in solido c'erano specie vettori che si potevano poi alla fine muovere e dunque avevano creato quel con le spline di stile che avevano più tra virgolette a mio avviso è gestibili e dunque ecco che io posso andare a vincolare e vengono adesso vogliamo fare una estrusione e poi riprendere ok dunque da questo lato a mio avviso è più gestibile dunque andiamo a fare funzione estrusione ok feature estrusione ok e vado a creare l'estrusione però lì mi è scomparsa caspita mi è scomparso lo schizzo caspita per me questo è un bacchetto perché prima non non c'era questo è già la seconda volta che mi scompare per me questo è un baco perché io non ho vediamo andiamo a vedere o magari ho combinato qualcosa io però non c'è nulla e dunque ha bisogno a salvare prima lo schizzo andiamo a rifare quando però da come ero abituato io siccome è già la seconda volta che mi succede a questo punto penso di non aver sbagliato io però perché con l'altra versione se c'è stato l'aggiornamento e andremo a bloccare questo ok e andiamo per esempio mettere una quota qua andiamo mettere 150 ok e poi se è bloccata ok ok qui eh sì qui l'avevo fissata questa è allegnata questa è giusta adesso io chiudo perché se non chiudo caspita perché non salva cioè se io vado a mettere questo schizzo ok vado a mettere così così li lascio andare e chiudo mi si elimina lo schizzo sì e ma non dovrebbe se invece io vado a fare un schizzo allora un baco questo per me sì se io invece vado a fare una linea e chiudo qua lascio andare chiudo anche qui mi scompare però non dovrebbe scomparire perché non faccio x adesso riprovo vado a prendere un altro piano per esempio ok vado a fare x e cioè nuovo schizzo ok vado a disegnarmi questo questo qua questo ok vado a chiudere qua dunque accetto non è che mette schiaccio questo ok vado accetta accettare questo e no e mi sparisce andiamo a rifare un'altra cosa proviamo andare a mettere qui ok dunque vado a disegnare ok qua qua e vado a disegnare qua adesso proviamo a mettere x e questo dovrebbe cancellare tutto e dunque ecco che mi dice questo qua però se io faccio così se io faccio così adesso andiamo a metto a posto io faccio una riga così dunque non è neanche lo spline proprio a mio avviso un qualcosa e vado a fare così e vado a fare estrusione no non mi prende neanche quello lì mi cancella tutto lo schizzo e per me non dovrebbe fare così un nuovo del genere e se io addirittura andiamo a a cercare a fare un cerchio e questo va bene un esagono quello che clicchiamo qua e mi fa scomparire lo schizzo adesso proviamo andare a salvare salva ok adesso riproviamo su questo piano qua riproviamo nuovo schizzo adesso andiamo a disegnare un cerchio ok andiamo a qui sì quando io facevo così l'altra volta funziona invece va a cancellare ipotizziamo così ma naturalmente non mi trovano mi trova il profilo per forza che non adesso facciamo l'ultimo tentativo andiamo a fare un nuovo sketch si vedete ho qualche problema io cioè nel senso come a qualche problema l'aggiornamento perché a questo punto chiudono schizzo ma lo salvo perché così verde vuol dire salvarlo e mi si elimina a meno che siano nascoste ma anche lì ma se io vado a fare poi estrusione però l'altra volta c'è la prima volta avevo provato ed è riuscito a salvare questa volta no stranissima stranissima comunque niente l'idea è questa io penso che sia le selection ok per forza non c'è niente allora a meno che sia da qualche parte no no ma non nulla dunque l'idea era questa nel senso che da ecco la spline il comando spline è diverso da solido dunque però adesso non ci sono i vari tipi di spine che c'erano il solido ce n'è solo una che comunque è facilmente bloccabile mentre con con solidox poi c'era quel problema che si bloccava i punti ma poi potevo sempre avere più gradi di libertà anche se all'inizio era neva poi cliccavo di nuovo e si poteva spostare tanto che poi c'era l'altro tipo di spline che va le spline stile mentre qua sembra che si blocchi ok naturalmente non sono riuscito a salvare un lo schizzo l'altra cosa che sarebbe interessante per le prossime volte avere anche le curve guidate da equazione ecco discorso di equazione perché se uno vuole cominciare a far disegnare una ruota dentata ad evolvente devo mettere dentro le equazioni e dunque sarebbe una cosa buona introdurre l'uso delle delle equazioni anche delle curve guidate da equazione ok ci vediamo la prossima arrivederci